Stop. Stop alla violenza. Stop alla violenza sulle donne. Stop alla violenza fisica, alla violenza psicologica. Oggi le persone di Alstom Italia si uniscono in un'unica voce per dire basta a qualsiasi forma di violenza o molestia di genere. Ecco che oggi, nel luogo del nostro lavoro quotidiano, un laccio rosso attraversa i nostri siti Alstom in tutta Italia, dando vita ad un corteo di donne assenti perché cancellate dalla violenza. Donne di cui rimangono solo le scarpe. Grazie. 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 Grazie.